Si parla del Parco Velino Sirente, voi oggi in conferenza stampa avete detto che è tornata la politica all'attacco, perché? Sappiamo infatti che l'assessore Di Matteo insieme ad alcuni sindaci del Parco intenderebbero in occasione di un disegno di legge che sta andando avanti per, diciamo così, snellire l'amministrazione del Parco cosa che ci trova anche d'accordo, se fatto bene, ci sarebbe poi un allegato a questo disegno di legge che comprenderebbe una drastica riduzione del Parco. Si verrebbe tolto dal territorio protetto almeno un terzo dell'area tutelata scelta tra le zone di maggiore importanza naturalistica, ambientale e faunistica. Perché si vuole fare questo? Perché da un lato si vuole incentivare l'infrastrutturazione del territorio cioè realizzando impianti da sci e opere connesse in zone di elevatissimo valore ambientale tra l'altro tutelate anche a livello comunitario e poi si vuole aprire la caccia in questo Parco. Faccio presente che nel Parco sono presenti delle specie di estrema importanza naturalistica a livello europeo innanzitutto l'orso marsicano che in questi anni è ritornato nella zona.